Siamo nella stanza della Presidenza, ci sono 11 gradi, questo perché la coibentazione non è stata mai neanche eseguita. La Crepe in Comune è il fatto che sei scuole si sono unite e stanno cercando di svolgere un'azione comune, congiunta, cercando di arrivare comunque a una soluzione. La Cassinis, la Cassina delle 6, è la scuola che è messa a peggio perché comunque anche a detta del Comune, e come dimostrano anche i documenti dell'amministrazione comunale, è una scuola prefabbricata che va abbattuta perché non conviene sistemarla. Invece siamo qui ancora a sollecitare l'amministrazione comunale che fa orecchio dal mercante. Questo è lo spogliatoio delle ragazze, lo spogliatoio per accedere alla palestra. Sono stati appena cambiati alcuni pannelli, ma altri sono da sistemare proprio perché sempre a causa della pioggia si inzuppano di acqua e crepano. La biblioteca dove hanno accesso anche i ragazzi e possono quindi scegliere il libro di lettura. E come possiamo vedere, anche qui il soffitto è in una situazione veramente molto faticente. Pannelli, muffa, insomma più volte sempre richiesta manutenzione e mai avuto risposte. Anche qui quando piove i pannelli si inzuppano di acqua e cadono, spesso e volentieri cadono. Manca la coibentazione, è una cosa di un'importanza elevata proprio perché sia i docenti che gli alunni hanno problemi sia d'inverno per il troppo freddo che d'estate per il troppo caldo. Anche le stesse pareti si deformano nell'arco del tempo. A novembre è stato prelevato anche un campione di questi pannelli per uno studio in quanto si sospettava la presenza di amianto. Stiamo ancora attendendo la risposta di questo campione. I genitori provvedono ogni qualvolta sia necessario, provvedono all'imbiancatura della scuola, provvedono all'acquisto di materiali. Il resto viene chiesto all'amministrazione comunale ma comunque risposte disattese. È stata costruita la prima parte nel 1921 e come si possono vedere dalle frecce bianche che ci sono ancora sulle pareti era utilizzata durante la seconda guerra mondiale come rifugio. È una scuola molto vecchia, è una scuola molto grande, è una scuola con i soffitti molto alti dove malgrado sia stata cambiata l'anno scorso la caldaia fa ancora freddo proprio perché riscaldare tutti questi ambienti non è assolutamente facile. Abbiamo preso un termometro dalle classi che le maestre hanno portato da casa. Quando l'abbiamo preso misuravano 17 gradi in classe. Ora l'abbiamo messo nell'atrio, il luogo in cui comunque i bambini giocano. Sono le 4 e mezza e segna 9 gradi. Le condizioni dell'esterno della scuola, tutta la ringhiera come si può vedere è comunque tutta ruggine e qui siamo nel cortile in cui i ragazzi utilizzano per giocare. Questa scuola è da più di 10 anni inserita nel piano di ristrutturazione delle scuole. Da più di 10 anni entra e esce per costante mancanza di risorse economiche. 5 o 6 anni fa il comune è venuto a ridipingere questo pezzo di muro esterno della scuola e come si può notare tutti i buchi che c'erano nella struttura sono rimasti, hanno imbiancato sui buchi e sui mattoni. Ci siamo sentiti dire a settembre in una conferenza in cui hanno partecipato l'assessore Simini e l'assessore Moioli che i genitori non possono assolutamente imbiancare. È davvero uno scandalo che facciano queste affermazioni che io condivido appieno. Il problema è che il comune non lo fa e soprattutto non si occupa della manutenzione vera e propria. La scuola Tommasio Locatelli sono messe malissimo perché hanno degli infissi che non tengono più, non coibentano più di legno, marcio, per cui ci passa proprio la mano attraverso. Ogni scuola ha la sua problematicità. Noi abbiamo gli infissi e i serramenti che sono messi male, le facciate esterne, eccetera. Questi copri caloriferi che abbiamo messo su noi, anzi quest'anno, marzo, li abbiamo messi su perché la valvola è ancora non protetta. Tutti questi caloriferi qua che vedete avevano fuori questa sporgenza che era pericolosissima, che poi è proprio altezza bambino. Siamo venuti noi in marzo di quest'anno con i trapani, un po' di ragazzi, un po' di genitori e abbiamo fatto tutto questo lavoro qua. Questi qui sono state imbiancate dai genitori, le tende sono state pulite dai genitori, le abbiamo staccate portate in tintoria. Ogni tanto veniamo a pulire i banchi, il sapone nei bagni. Mancherebbe se non lo portassimo noi regolarmente. Insomma alla fine ci mettiamo mano noi per sopperire all'insufficienza dell'amministrazione comunale. Cosa significa per un genitore che ha un bambino a scuola occuparsi anche di tutte quelle cose di cui dovrebbe occuparsi l'amministrazione pubblica? Significa comunque di fatto permettere a un figlio, a un bambino, comunque di passare la maggior parte della soggiornata in un ambiente pulito, sicuro e quindi quello che ci preme proprio chiedere all'amministrazione comunale è quello di intervenire sulla sicurezza. Non si sta chiedendo il di più che comunque già i bambini hanno, però ci sono delle questioni importanti legate proprio alla sicurezza degli edifici come per esempio la prova di stabilità della quale per esempio di questa scuola non abbiamo possibilità di accesso ai documenti. Noi sappiamo che è stato fatto un test di stabilità su questo edificio, non sappiamo con che tipo di sistema e con che esito. Trovo assolutamente assurdo che gli assessori competenti facciano affermazioni come direi che è uno scandalo che i genitori provvedono all'imbiancatura, anche perché come potete vedere noi imbianchiamo in maniera un po' più colorata.